I recenti eventi al museo vi hanno costretto a rivalutare le vicende di Dunwich raccontatevi da Armitage. Non può trattarsi di semplici coincidenze. Wilbur Watley, il Necronomicon, l'essere di Dunwich e gli individui e le creature che hanno attaccato qui ad Arkham. Tutto deve essere collegato. Non avete dubbi sulla vostra prossima destinazione, il remoto e lugubre villaggio di Dunwich. Riflettete sulla possibilità di contattare la polizia di stato del Massachusetts, ma le conseguenze negative sarebbero di gran lunga superiori ai vantaggi. Considerate la natura della vostra storia, probabilmente archivierebbero il vostro racconto come una menzogna, un'assurdità o, peggio ancora, potrebbero mettervi in prigione. Dopotutto eravate tra gli avventori di una rivenita clandestina di alcolici e siete anche penetrati illegalmente nel museo. Scegliete invece di dirigervi a Dunwich per proseguire le indagini di persona. Mettete in valigia tutto ciò che vi potrebbe servire per tentare di riposare almeno per qualche ora durante la notte. Al mattino vi dirigete alla stazione ferroviaria del Northside e acquistate un biglietto dell'ultimo momento per l'espresso locale. Dunwich dista alcune ore di viaggio in treno verso Nord-Ovest, lungo la Miskatonic River Valley. A Dunwich non c'è una stazione ferroviaria, ma riuscite a telefonare a uno dei conoscenti di Armitage che vive nel villaggio, un uomo di nome Zebulun Watley, che era presente agli aventi di alcuni mesi fa. Gli appunti di Armitage rivelano che la famiglia Watley è suddivisa in varie branche, alcune corrotte e prive di scrupoli, altre sane o totalmente strane ai riti diabolici o sacrileghi. Stando ad Armitage, la branca della famiglia di Zebulun era all'incirca metà strada tra le due categorie di Watley. Era al corrente delle tradizioni dei suoi antenati, ma non ne era stata assorbita. Zebulun accetta di venirvi a prendere alla stazione più vicina e di accompagnarvi in auto fino alla cittadina. Quando il treno parte per Arkham, il peso degli eventi della notte precedente si fa sentire e la stanchezza vi reclama. Ma prima che giungiate a destinazione sane e salvi, il treno inizia a rombare e a tremare violentemente, riscuotendovi dal vostro torpore. Poi il convoglio si arresta con violenza e alle vostre spalle eccheggia un improvviso rumore metallico. Ciao a tutti e bentornati a Dovera Gondola, il canale YouTube dedicato al Signore degli Anelli LCG e ad Arkham Horror LCG. Continuiamo la nostra campagna di dannici insieme ad Ashkan Pit con l'Espresso di SS County. Il deck building in questo caso è molto semplice perché ho due soli punti esperienza che utilizzo per potenziare l'evento che fortuna. Quindi passeremo dall'evento che fortuna a costo 1, veloce, prendi più 2 per quel skill test, a costo 1, esperienza 2, per prendi più 2 per quel skill test e pesca una carta. Ok, allora, ho già fatto tutto il setup, ho aggiunto che devo aggiungere un meno 3 al sacchetto del caos per il resto della campagna. Quindi l'ho aggiunto, ho messo in gioco una locomotiva casuale, 6 copie del vagone e del treno, ho messo da parte le copie da attraverso il tempo e da spazio e quindi non mi resta che sciaffolare e caricare il mio mazzo. Carichiamo il mio mazzo, andiamo a vedere se facciamo un mulligan oppure no. Allora, praticamente mullighiamo tutto tranne l'onwolf, direi di sì. Quindi mullighiamo tutto tranne l'onwolf, che sono tutte skill e invece io voglio permanenti. Ok, un filo meglio, c'è di molto meglio, ma va bene, ok. Quindi partiamo con la trama 1. Uno squarcio nella realtà. Quando il treno per danno e ci si ferma di colpo, dato un'occhiata fuori dal finestrino, notate un immenso squarcio del cielo, simile a uno strappo in un drappo di stoffa. I vagoni di coda vengono attratti all'indietro e con un orrendo stridore metallico si staccano dal resto del treno. Poi vengono sollevati in aria, turbinando e scompaiono nello squarcio in cielo. I passeggeri accanto a voi cedono al panico e si rannicchiano nei loro sedili. Un uomo anziano sviene dalla paura. Per quanto riguarda invece il capitolo 1a, fuggite. Il treno si è fermato sul ponte che attraversa il fiume Miskatonic. Forse il tuffo non sarebbe letale, ma preferite non tentare la sorte. La strategia migliore consiste nel farvi strada fino alla locomotiva più in fretta possibile e rimettere il treno in movimento. Obiettivo, quando un investigatore entra nella locomotiva, proseguite con i capitoli. Io qua mi muovo da sinistra a destra, apro il primo luogo che ha un effetto forced, ma per le istruzioni dello scenario, iniziate la partita in quel luogo. Se possiede una capacità obbligo che si innesca quando si entra in quel luogo, ignoratelo. Ok, per cui possiamo effettivamente iniziare. Allora, io direi che potremmo fare con 1 giochiamo Lone Wolf, con 3, 1, 2, 3, giochiamo Warren Rice e poi investighiamo subito con Duke. Investighiamo un totale di 5, perché ho 4 di Duke più 1 di Warren Rice contro 1. 5 contro 1, meno 1. Prendo l'indizio, metto qua l'indizio e grazie a Warren Rice pesco una carta, che è la Perception. Ok, quindi a questo punto fase dei nemici, fase di upkeep, fase dei miti. Andiamo a vedere cosa peschiamo. Uh, l'orrido afferrante. Quando sono ingaggiato con lui non posso muovere. Ma allora... Ok. Allora, ragioniamo un po'. Perché da un lato io posso farlo fuori col Vicious Blow, ma vorrei tenerlo per più in là. Vorrei tenerlo per più in là, il Vicious Blow. Se io provo a eludere, è un 3 contro 2. Allora, io all'inizio del mio turno prendo una risorsa grazie a Lone Wolf. Potrei fare un... spendere un 1, 2 grazie a Scrapper per prendere più 1. Quindi diventerebbe un 5 contro 2. 5 contro 2. Per eluderlo, dico. Sì, proviamo a eluderlo. Dai, prima azione, proviamo a eluderlo. 5 contro 2. Meno 2. Quindi lo eludiamo. Come seconda azione, muovo Duke. Cioè, investigo e mi muovo qui. Dopo che entri nel... nel passeggero, devi o scartare carte dalla tua mano che hanno almeno due icone totali di pugno o prendere due danni. Io direi che possiamo prendere due danni, in realtà. Sì, non ho neanche l'icone pugno. Quindi prendiamo due danni, ne prendiamo uno con... rise. No, facciamo così. Per ora li prendo io. No, uno io e uno rise, dai. E quindi investigo. C'è un 4 qua. Sono ancora alla seconda azione. C'è un 4. Io investigo 5 contro 4. Facciamo che usiamo la perception. Facciamo 7 contro 4. Ok. 7 contro 4. Cultista meno 1. Per cui prendo l'indizio e pesco una carta. E in realtà questa era la seconda azione. Ho eluso. Mosso con Duke. A questo punto io potrei fare così. Potrei scartare l'ops, ripristinare Duke. E poi, di nuovo con Duke, mi muovo qui. Perché... sì. Ok, dai, va bene. Così vado proprio veloce, veloce. Ok. Parlor è connesso alla location da sinistra a destra. Non possiamo investigare, ma possiamo spendere tre risorse e scoprire un clou in questo vagone. Vagone che si chiama in italiano, giusto per completezza, il vagone bar. Ok. Quindi ho fatto tre azioni. Ho eluso. Mosso, investigato. Mosso, ma non posso investigare. Ok. Quindi possiamo andare... dunque... potevo pescare anche con Rice. Certo, qui potevo pescare anche con Rice. Perché avevo scoperto l'ultimo indizio. Era meglio non farlo, ma va bene. Ok. Perfetto. Quindi entriamo nella fase dei nemici, nella fase di upkeep e nella fase dei miti. Attaccala alla tua location. Devo testare la testa, la barriera arcana. Va bene. Ok. Quindi inizia il mio turno. Io prendo una risorsa con Lone Wolf, spendo tre risorse e scopro un indizio qui. Ok. Ed era la prima azione. Dunque... era la prima azione. A questo punto io provo a uscire. Quindi faccio un 4 contro 4 con Duke, no? Quindi io dico investigo. Ok. Investigo. Però prima di investigare devo fare un 4 contro 4 per vedere che cosa succede. Esce un meno 3, quindi perdo. O cancello l'effetto del move o scarto le 5 carte. Scarto le 5 carte. 1, 2, 3, 4 e 5. Peccato per Peter Silvestre. Però posso entrare qui. Ok. Dopo che... o scarti due carte della tua mano con due... no, scarti carte della tua mano che hanno due... potrei scartare questo. Potrei scartare questo per non prendere orrori. Oddio, gli orrori li posso bancare anche abbastanza bene. No, io prendo due orrori. Prendo uno su Duke e uno su Rice. Ok. A questo punto devo investigare. È un 5 contro 3. Perfetto. 5 contro 3 ed è la seconda azione. La prima era quella lì e la seconda è ancora questa. Quindi 5 contro 3 meno 2. Quindi prendo l'indizio e metto su l'indizio. Ok. A questo punto io con la terza azione scarto la scorta di emergenza, ripristino Duke e poi investigo di nuovo un 5 contro 3. 5 contro 3 meno 3. Se fallisci scegli e scarta una carta dalla tua mano. Sì, perché Lucky non posso usarlo perché non non ho risorse, quindi scarterò la zampa di coniglio. Peccato. Ok. Va bene. Quindi fase dei nemici. I nemici con cacciatore si muovono e lui si muove qui. Fase di upkeep. Esco la seconda debolezza che mi fa tappare tutti i supporti. E fase dei miti. Metto il Doom, voci dissonanti. Non posso giocare asset o eventi. Ok. Allora a questo punto da un lato mi converrà a togliere questa, provare a investigare. Allora all'inizio del mio turno io prendo sicuramente una risorsa per lui. Io posso provare a investigare con un semplice 3 contro 3 e poi c'ho il Lucky eventualmente che mi può aiutare. Sì. Allora facciamo così. Prima azione, prime due azioni, tolgo il perseguitato dagli incubi. Seconda, terza azione, investigo 3 contro 3. Ok. Io ho 2 più 3 di Rice. 3 contro 3. Più 1. Quindi riesco a prendere l'indizio. Lo metto qua. Ok. E non succede niente perché chiaramente Rice non posso esaurirlo. Ok. Quindi ho preso l'indizio. A questo punto, alla fine del round, quindi scarto le voci dissonanti. Per cui andiamo nella fase dei nemici, i nemici con cacciatore si muovono e l'orrido afferrante arriva qui. Poi andiamo nella fase di upkeep e alla fine del turno scartiamo le voci dissonanti. questo però ci porta nella fase dei miti in cui l'agenda 1 avanza. Vediamo cosa succede. Il vagone di coda si stacca e viene trascinato all'indietro. Con vostro grande orrore lo vedete sollevarsi dai binari e scomparire all'interno del portale sopra le vostre teste. Rimuovete dal gioco il luogo più a sinistra. Se ha vittorie e non ci sono indizi su essi, collocatele invece nella galleria delle vittorie. No. Ogni investigatore in quel luogo è sconfitto, ogni nemico, ogni supporto in quel luogo è scartato. Scartate tutti gli indizi posseduti dagli investigatori. Quindi scartiamo tutti gli indizi posseduti dagli investigatori. Perfetto. Quindi andiamo avanti con la trama 2A. Fauci spalancate. Lo squarcio si allarga ulteriormente. Sentite l'ultimo vagone del treno tremare nel momento in cui viene attirato all'indietro. La situazione rischia di sfociare nel caos ora che i passeggeri capiscono il mortale pericolo o che corrono. Alcuni vanno in cerca di un posto dove nascondersi, mentre altri iniziano a correre da uno scompartimento all'altro in preda al terrore. Quindi riveliamo la carta che è i mali antichi. Dobbiamo imprezzare un Doom sulla current agenda. Ok. Allora, all'inizio del mio turno io con Lone Wolf prendo una risorsa che uso subito per mettere giù la lente. A questo punto io direi Conduke, muovo, prima azione e provo a investigare qui. Allora, anche qui dice dopo che entro qui devi o scartare carte dalla tua mano con almeno due testa o prendere due errori. Prenderò due errori. Ok. A questo punto devo investigare qua. È un 2, io ho un 6. 6 contro 2. 6 contro 2. Teschio. Meno x dove x è la current agenda. Quindi lo prendo perché è meno 2. Perfetto. Quindi prendo un indizio e tolgo un indizio. Ho ancora un'azione. A questo punto io potrei investigare un 4 contro 2. Eh sì, perché no? Senza stappare Duke. 4 contro 2. Cioè, o meglio, ho ancora due azioni. 4 contro 2. Meno 1. Quindi prendo l'indizio e metto l'indizio. Ho ancora la terza azione. che potrei a questo punto scartare il Vicious Blow per stappare Duke e muovermi a investigare. Così faccio un sacco di action management. Sì, dai, scarto il Vicious Blow. Stappo Duke. Tappo Duke. E mi muovo qui investigando. Cerca il mazzo incontro e discard pile for un Grappling Horror e pescalo. Mmm, com'è il Grappling Horror? È l'orrido afferrante, no? È quello là. Giusto? Sì. Grappling Horror, eccolo qua. E pescalo. Quindi in realtà questa era la terza azione e lui mi ingaggia. che maledizione. Mi ha fregato questo. Ok. Non mi ricordo se ho attivato Rise. No. Per cui peschiamo una carta. Per prima, ovviamente. E... Beh, la Firax è buona, ma... ma niente. Ok, quindi avrò poi lui che mi fa un danno e un orrore, ma mi fa anche un orrore diretto. Va bene. Vediamo se all'inizio del turno avevo preso... Sì, avevo preso la risorsa. Sì, perfetto. Ok. E a questo punto potremo poi andare verso la... engine car, sostanzialmente. Ok, quindi andiamo nella fase dei nemici. I nemici e un cacciatore si muovono e lui mi attacca. Mi fa un danno e un orrore. Facciamo... Un danno a Duke e un orrore a me. E per l'ipocondria devo prendere un orrore diretto, giusto? One direct horror, sì. Mmm. Devo stare un po' attento qua, eh. Ok. Quindi entriamo nella fase di upkeep e poi nella fase dei miti. Dove riveliamo il Wizard of the Order. Una qualsiasi location vuota. Alla fine della fase dei miti piazza un doom sul Wizard of the Order. Va bene, questa è essenzialmente una wiffata perché alla fine della fase dei miti ci andiamo a mettere il doom ed entriamo nella fase degli investigatori. Ok. Allora, io farò così. Lo eludo. All'inizio del mio turno prendo una risorsa. Lo provo a eludere e poi mi muovo con Duke e vediamo cosa succede. Ok. Sì. Allora, per eluderlo io ho un 3 contro 2. Voglio andare almeno a più 3. 3 contro 2. Quindi spendo due risorse. Facciamo 5 contro 2. Provo a eluderlo. 5 contro 2. Meno 1 lo eludiamo. Ok. A questo punto con Duke entriamo con la seconda azione nella locomotiva. Allora, se un investigatore entra nella locomotiva, avanza. Un carrello pieno di carbone vi blocca la strada per raggiungere la locomotiva. Ricacciando indietro la paura, uscite dal finestrino e vi arrampicate sul tetto del treno per procedere oltre il carrello del carbone. Il movimento costante del vagone che si sposta all'indietro rischia di farvi perdere equilibrio e, quando vi avvicinate, una creatura alata cada impicchiata su di voi. Il suo corpo sembra interamente composto di vapore incandescente e stridente. L'investigatore che entra nella locomotiva sceglie uno degli effetti. O facciamo una prova di piede 3 per schivare la creatura. O una prova di forza. Dunque. Una prova di forza 3 o piede 3. Noi abbiamo 3 risorse, che va molto bene in realtà. Quindi io potrei fare un 3 più 3 per fare 6. 6 contro 3. Se no potrei fare anche un 5 contro 3. No, facciamo così. Mi tengo comunque una risorsa per l'acchi. Quindi spendiamo 1, 2 per avere più 2 al piede. E quindi facciamo 3 più 2, 5. 5 contro 3. 5 contro 3. Proviamo. Uuuuh. Fortuna qui. Ci stiamo rifacendo dalla Miskatonic. Quindi ho successo e stappo Duke. Effetto una prova di piede per tentare schifare la creatura. Se fallisci, il tuo balzo è troppo lungo e riesce a malapena ad accapparti la fiancata del treno. Perfetto. Quindi possiamo andare avanti. Possiamo andare avanti. Che dice? Rimettete in funzione il motore. Siete riusciti a raggiungere la locomotiva. Ma ora dovete riavviare il motore. In modo da sganciarvi dall'effetto risucchiante del portale. Se non ci sono indizi nella locomotiva, proseguire con i capitoli. Allora. Dopo che rivela la locomotiva, cerca nel mazzo incontri della Discard Pile per un orrore afferrante e pescalo. Nel mazzo incontri e nella Discard Pile. Che vuol dire che se non c'è, non c'è. Quanti ce ne sono di questi grappling horror? Mi sembrava due e in effetti non lo vedo. Quindi qui è un grande wiffone. Giusto? Sì, non vedo orrori afferranti. Ho anche sotto mano le carte e ci sono solo due orri di afferranti. E quindi ci va bene. Ci va benissimo. Perfetto. Quindi io sono ancora con la seconda azione in realtà, di investigazione. Giusto? Sì, perché che cosa ho fatto? Ho fatto l'investigatorio, ho aggiunto la risorsa, ho messo, ho rimosso... Ho eluso, mosso, investigato e devo fare l'investigazione con Duke. Perfetto. L'investigazione che è a 4, 5 e 6, quindi 6 contro 2. Investighiamo una volta, meno 1, prendiamo l'indizio e mettiamo qua sull'indizio. E a questo punto investigo la seconda volta, che è di nuovo un 6 contro 2. 6 contro 2 teschio, che dice meno X dove X è la corrente agente a meno 2, quindi vinco. Prendo l'indizio, grazie a World Rise pesco la carta e posso avanzare. Il motore si riattiva con un rombo, orientite la caldaia con varie palate di carbone e notate con sollievo che il treno ricomincia ad avanzare lungo i binari. R1 Allora, R1 tirata un sospiro di sollievo quando il portare oltre il treno implode su se stesso senza infliggere ulteriori danni. I pochi passeggeri sopravvissuti alla terrificante esperienza non sembrano aver compreso cosa è appena successo. Uno di essi parla di una tubatura che è scoppiata nel vagone di coda e questa diventa rapidamente la spiegazione riservata agli innocenti e agli ignoranti, coloro che non possono o decidono di non voler scavare più a fondo del mistero. Voi d'altro canto sapete che le cose stanno diversamente, anche se col senno di poi vorreste tanto che così non fosse. Ogni investigatore guadagna una montata di punti esperienza, pare al volo di vittorie, di ogni carta nella gallerie delle vittorie. Allora, mi sembra che ci sia solo un victory 1 e un altro victory 1, quindi due punti esperienza. Diciamo che questa partita ci ha rifatto della Miscatonic dove avevo fatto una fatica pazzesca, invece in questa qui è stata uno dei playtru più veloci in assoluto su uno scenario che comunque rimane molto bello e molto divertente. Perfetto, io vi ringrazio, spero che anche se sia stata veloce vi sia piaciuta, probabilmente Duke era un investigatore perfetto per questa tipologia di scenario perché muovere e indagare con un'unica azione è davvero utile, notevole. Io vi ringrazio, alla prossima, ciao! Ciao!